Occasioni, occasioni ed occasioni, ecco che cosa ci dà questo periodo di bear market sia a cripto ma sia nel mercato azionario, ma allo stesso tempo nel mercato NFT. Difatti in questo video voglio mostrarvi i tre progetti NFT che ho sempre sognato ad avere e che questo bear market spero mi dia la possibilità di comprarli. Ma come andrò ad agire? Semplicemente andrò a fare un pack settimanale su Solana, comprerò ogni settimana 100 euro di Sol, in questo momento 100 euro Sol sono all'incirca 2 Sol, per cui ogni settimana andrò a comprare 2 Sol e quando un ribasso sarà ulteriore al prezzo attuale, cioè più basso di 50 dollari, andrò ad aggiungere un altro Sol. Questo mi permetterà di avere con il tempo un gran capitale di Solana da poter spendere negli NFT che preferisco, NFT che solo fino a poco tempo fa valevano almeno 4 volte di più o 5 volte di più, NFT che andavano intorno ai 20.000-25.000 dollari l'uno, senza parlare poi dei prezzi più rari, ma quello è un altro discorso. Per cui queste collezioni sono importantissime, sono segnate da moltissimi volumi, scambi costanti tutti i giorni ed inoltre sono strani cercate. Sfortunatamente non potevo permettermele, ora grazie a questo bear market potrò riuscire ad acquistarle, o almeno è quello che spero. Quando parlavo di occasioni che ci passano davanti, ecco penso che questo periodo che ci aspetta, il prossimo anno o non so quanto ancora, sarà una buona occasione prima dell'albing per poter prendere degli NFT che se il progetto Solana rimarrà in piedi, ci potranno fruttare 5, 6, 10, 50 volte di più, proprio come le cripto. Per cui ragazzi, sfruttare l'occasione e non farsi prendere la paura è molto importante e questo riguarda non solo il mondo delle borse e delle cripto, ma anche gli NFT. Di occasione ne abbiamo tutti i giorni, eppure per la paura ce le facciamo sfuggire. Ad esempio nel 2020, durante la pandemia, il prezzo di Bitcoin è andato intorno ai 3.500 dollari. Non sto parlando di 20 anni fa, se ci pensate bene sto parlando di solo due anni fa. O un'altra occasione l'abbiamo avuta pochi mesi fa, con il rublo che è calato precipitando. Chi mai avrebbe pensato che il rublo poi sarebbe riuscito a risalire e a ritornare ai suoi massimi? Chi ha investito in quel momento ci ha sicuramente guadagnato moltissimo. Ecco, in questo momento negli NFT io penso che le occasioni siano simili. Ovviamente questo è sempre un pensiero personale e non sono assolutamente consigli finanziari. Io mi posso sbagliare e lo sapete molto bene. Pensate sempre e unicamente con la vostra testa studiando. Questa è la cosa più importante. Sappiamo tutti che far soldi non è mai facile, per cui ragazzi ragionare sempre prima di spenderli e sapere sempre il rischio e il rendimento quale può essere se ne vale la pena. Ok ragazzi, ora non si scherza più. Siamo all'interno di Magic Adam e vado a mostrarvi le tre collezioni che fino a poco tempo fa sono sempre stato uno dei miei pallini, ma costavano veramente troppo. Ora invece, grazie al crow delle crypto, potrei riuscire a comprarle. Per prima cosa però voglio chiedervi, gentilmente, se potete mettere un bel like alla pagina per aiutarmi, dato che dietro queste video c'è un grande studio, e oltre a questo di iscrivervi se siete solo di passaggio. Mi farebbe veramente gran gran piacere. Quando attivate anche la campanella se il video vi è piaciuto. Ora però, andiamo subito a vedere la prima collezione. Questa collezione si chiama Soul Goods. Ha un floor price di 30.69. All'incirca in questo momento, può darsi che quando pubblicherò il video il prezzo sia cambiato, è di 1.500€. Può sembrare tanto, ma voglio ricordarvi che un Soul tre mesi fa costava sui 250€. Di conseguenza, la collezione che vi sto mostrando costava all'incirca 5 volte tanto. Stiamo parlando di quasi 7.000€, peraltro per uno dei pezzi ultimi della collezione. Non sto parlando ovviamente dei pezzi più rari, quelli principali. Ora, prima vi voglio far vedere un po' di numeri. Ad esempio, canale Discord, invito non valido. Questo invito è scaduto, nessuno può più entrare nel canale Discord. È pieno o coloro che hanno ovviamente creato i Soul Goods e il canale Discord hanno deciso che nessun altro può entrarci. Altra cosa interessantissima è il canale Twitter ha 39.2k follower, è veramente moltissimo e dire che è straattivo è poco. 43 minuti fa hanno messo un post, 46 minuti fa un'altra risposta, un'ora fa un altro post. Insomma, c'è un post, praticamente ci saranno almeno 8-9 post al giorno. Come potete vedere, le activity in questo momento sono medie e il floor price è di 30.69. Il volume è diminuito, ma non così tanto, è comunque diminuito, però rimane comunque buono. Difatti, guardate le vendite, 31 minuti, un'ora, due ore, quattro ore, quattro ore. Venderlo non è di certo un problema e nemmeno comprarlo. Ci sono scambi di volumi molto molto alti. Se guardiamo il prezzo all time, possiamo vedere che ha avuto addirittura un floor price di 52 come high time. Il che vuol dire che se Solana in futuro continuerà a crescere dopo questo ribasso, dopo l'alving, e questa collezione continuerà a rimanere una delle top collezioni all'interno della blockchain Solana, il prezzo potrebbe veramente, veramente cambiarci la vita. Ed è per questo che sono interessatissimo a questa collezione. E ho intenzione assolutamente di comprarla. So che sono cifre molto alte, perché alla fine 1500 euro non è una cifra da poco. Però sfruttando i ribassi, sfruttando il momento giusto, sfruttando il periodo del bear market, so che lo comprerei a sconto. E so anche che sarebbe una sorta di scommessa per il futuro, perché ad esempio l'intero ecosistema Solana potrebbe fallire, questo nessuno può darmi la certezza che non sia così. Ma credendoci, il rischio rendimento di questo investimento è totalmente dalla parte del rendimento. Se l'iTime nel suo floor price migliore è stato di 52 Sol, e i Sol valevano all'incirca sui 250-230 euro, vuol dire che il pezzo minore di questa collezione, uno dei meno rari, arrivava a valere fino a 13.000 euro. E in questo momento lo pagheremo 1500 euro. Direi che siamo abbastanza in sconto. Ma non ancora. Infatti, aspetterò ancora un pochino. Continuiamo. Voglio mostrarvi una nuova sezione, che è Stats. E non c'era, fino a poco tempo faccio Magic N, l'hanno ampliata. È molto molto utile. Ora vi mostro perché. Innanzitutto i pallini con cui potete vedere tutte le vendite che ci sono stati per i Solgoods, facendovi vedere le vendite più alte e più rari. Ad esempio questo Solgoods è stato venduto a 50 Sol. È veramente altissimo. E quello inferiore è stato venduto all'incirca sui 30. Comunque noi possiamo vedere che questo è il prezzo medio inferiore. E dobbiamo basarci su questo. Prenderlo quando il valore di Solana è anche a ribasso, come in questo momento. In questo caso possiamo vedere sempre, inoltre, altre cose importanti. Possiamo rivedere le trades qui sotto. E possiamo vedere anche tutti gli holders. Coloro che hanno un token, sono 994 persone che lo detengono e lo tengono. Mentre quelli che ne hanno due o fino a cinque, sono solo 240. Quelli che ne hanno più di 50, invece, sono tre persone. Ci sono persone che hanno più di 50 NFT, che è incredibile, di questa collezione nel loro portafoglio. Detto questo, andiamo a vedere il sito. E vi mostro subito il sito. Ho fatto già la traduzione in italiano, così capite tutti subito meglio com'è. Si chiama The Fracture, il sito. È una collezione di 6666 Soul Goat, ispirato a De Chirico. De Chirico, per chi non lo sapesse, Giorgio, è stato un artista surrealistico nato in Grecia. Famoso per opere, e anche oggi vengono chiamati Manichini. Queste opere, questi NFT, sono state tratte per ispirazione. Su Origins c'è la storia, potete leggerla, è molto interessante. È fatta veramente, veramente bene. Ci sono tre capitoli, capitolo 1, capitolo 2 e capitolo 3. E voi direte, ma perché devo leggere questi capitoli? Semplicemente perché, per tutti, c'è a disposizione un enigma. Eccolo qua, l'enigma finale. Che potrete risolvere, leggendo quei tre capitoli e questa parte. Le regole sono semplici. Per provare The Final Enigma, devi inviare la tua risposta al modulo fornito insieme al tuo nome utente, Discord e all'indirizzo del portafoglio Solana. Ad ogni individuo verranno concessi tre tentativi. I Dio avranno pietà di te se stai inviando Deus, dieci minuti dopo che la sfida è stata pubblicata. La prima persona che riuscirà a decifrare con successo l'enigma finale riceverà in premio un NFT misterioso di Final Enigma. Ecco. Qui sotto c'è il modulo da comporre ed infine la risposta finale dell'enigma. Provateci se volete. È veramente, veramente una figata questa collezione. Come ho detto, devo averla assolutamente. Passiamo a un'altra collezione, in effetti numero 2. E qui si scherza ancora di meno, perché aumenta ancora di più il prezzo. Ed è una forse tra le prime 5 con più volumi all'interno di Magic Eden. Ed è... Ed è una forse tra le prime 5 con più volumi all'interno di Magic Eden.